Ciao, mi chiamo Slava, io sono Vettri della Festa, io sono programmista. Ciao, mi chiamo Slava, io sono programmista e lavoro tutto il tempo sul computer. Dopo lavoro a casa, passo il mio tempo libero sul computer a me. Io non ho alcun tempo di falciare il prato. Ho fatto un robot, un tassaerbo, ora è possibile, attraverso internet, tagliare il mio prato. Hai un minuto? Provatelo per favore, è davvero facile e divertente. Ciao! È davvero facile e divertente. Hai un minuto? Provatelo per favore. È davvero facile e divertente.